Allora guardi, io le posso dire che sono l'insegnante di sostegno, quindi l'ho visto da un punto di vista diverso. Posso dire che il programma lo fanno gli insegnanti curricolari, però questo concorso dà la possibilità a tutti i ragazzi, sia quelli bravi, sia quelli che magari un po' meno hanno difficoltà, di scoprire i loro talenti. C'è un ragazzo, ci sono ragazzi che hanno praticamente anche due, tre a matematica e hanno scoperto che con questi giochi sono bravissimi e questo gli fa almeno porre una domanda, dice ma allora valgo qualcosa, devo... Oppure alcuni ragazzi di ISA, soprattutto di ISA che ho il sostegno, cioè io li seguo anche se di ISA non ce l'hanno il sostegno, ma loro, quando giocano soprattutto alla boca per esempio, nel gioco di geometria, sono bravissimi, più bravi degli altri e questo vale tantissimo per loro, perché gli dà quella motivazione e quella fiducia in se stessi che a scuola non riescono a vedere facilmente e poi uno spera che ci sia una ricaduta anche su tutto il resto.